Una cena dedicata ai commercianti, quella che vedrà come ospite d'onore il pluricampione Iuri Chechi. Scopriremo dove e quando. Una cena con Iuri Chechi è quella che si terrà giovedì prossimo a Montemurlo, dedicata ai commercianti, il servizio di Maurizio Ciampolini. Iuri Chechi, il signore degli anelli, ha cena con i soci di Confesercenti Prato, quindi il ciclo di Confesercenti Incontra, di fatto dopo il primo cittadino, il vescovo, la prefetta della città, si apre ai grandi personaggi della storia di questa città, il senso di questa iniziativa. Sì, è già il quarto appuntamento che organizziamo di Confesercenti Incontra, noi abbiamo iniziato questa serie di eventi conviviali tra associati e amici di Confesercenti perché vogliamo passare delle belle serate insieme incontrando le autorità e i personaggi che hanno fatto la storia della città di Prato. Iuri Chechi ovviamente si inserisce in questo filone perché è un personaggio importantissimo per Prato, conosciutissimo in tutto il mondo per i suoi successi sportivi e appunto lo incontriamo giovedì prossimo, giovedì 20 ottobre, presso il ristorante Pizzeria Due Marmocchi a Montemurlo. E' una serata appunto conviviale, avremo i giornalisti sportivi Vezio Trifoni e Massimiliano Masi che condurranno la serata e quindi incalzeranno Iuri Chechi con ricordi, aneddoti e cose simpatiche sicuramente che ci faranno stare bene e esalteranno anche la figura meritatamente di Iuri per quello che ha fatto nella sua storia. Grazie